Arrestato il cantante Treppe in arte Pappa, Pappa, Pappa Cassina De Pecchi a nord di Milano Cui una misura di sorveglianza speciale Chiusura di un'indagine che lo scorso aprile aveva portato alla denuncia di uno spacciatore Questo locale di Cassina De Pecchi Era presente anche Baby Gang L'operazione si innesta in una serie di perquisizioni eseguite dalle fiamme gialle Tre casi a Milano E' particolarmente noto nei social network, autore di diversi video Che sono stati arrestati insieme ad un complice 19enne Esplicitamente parla di soldi facili Da carabinieri e polizi Pappa, 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 Pappa Conosco uno